Andrea Cimri con October Challenge, qualifica 2, vogatore, calorie. Quasi coccio, è proprio quasi coccio, ma lui ha coccato, ma se fate una funzione si può correre di chiedere, potremmo divertire. Mi sono fatto vedere, ciao Ale, ci vediamo in settimana. Ripeto, Andrea Cimri, qualifica 2, sopra il salvo. Ripeto. Dimmi tu quando vuoi che faccio questo. 7, 5, 3, 2, 1, go. 8, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 1, go. Grazie a tutti. 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 Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Siamo a otto. Quanto è? Quattro minuti? Sono già otto più di quelli. 50 secondi alla fine. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 20 secondi, 4 minuti, giusto Andre? 10 secondi. Ok, ancora uno. Ok, quattro minuti adesso. Un minuto. Una qualifica. Quattro minuti. 40 secondi, Andre? Sì, sì. Poi, poi lo lasciamo... No, sì, lo prendo, facciamo un tentativo. No, faccio finire il tempo. Ok, lo facciamo scorrere fino al time, va bene. 20 secondi. 20 secondi. 20 secondi. Due, tre, quattro, su, cinque. Ok, allora, lascia la penaltime cap, mancano due minuti. Ok, vuoi provare? No. Pizzata 5, aggiunta alla 15. Quattro minuti. Quattro minuti? Un minuto e quaranta. Anche qui, vista da 5, aggiunta alla 15. Vabbè, lascia la penaltime cap, mancano due minuti. Un minuto. Un minuto. Un minuto? Sì, 50 secondi. Lasciamo scorrere fino al time. Sì. Venti secondi. Sì. Grazie